Dunque il Pescara è ripartito. La vittoria mancava da troppo tempo, anche se solo al novantesimo è stata di grande importanza sotto tutti i profili. A sette giorni della chiusura del mercato invernale a tenere banco è sempre il caso Lescano. Vicenda gestita malissimo, è stato perso troppo tempo. Nelle ultime ore è tornato insistente il pressing del Padova. Ospite del salotto solo calcio, Gerry Palomba, uno dei due agenti dell'attaccante Italo-Argentino. Ecco i passi salienti. Il ragazzo mi dice che si è sempre confortato bene. Più volte io ho chiamato il direttore per chiedere ma c'è qualcosa che non va, che tu ti accorgi che non va. Mi ha sempre detto che il giocatore si è andato bene, si è andato bene e che poi c'erano delle scelte da rispettare. Il 2 o il 3 di gennaio, adesso non vorrei sbagliare, lui ha avuto un incontro con il direttore sportivo e chiaramente gli ha manifestato un malcontento. Scusa Gerry se ti interrompo, senza aggiungere voglio andare via? Assolutamente. Il ragazzo ha detto soltanto che c'era un malcontento sia per come stavano andando le cose e un po' per quello che può rappresentare un giocatore che aveva fatto 8 gol e 6 assist e poi si era visto messo un attimo da parte. E il direttore mi ha detto, sai ho sentito Facundo ieri, era abbastanza incristito da tutta la situazione, forse sarebbe meglio se ci mettiamo a guardare intorno sulle situazioni. Se tu mi dici così il 4 o 5 gennaio, io ero a Firenze, lo ricordo perfettamente, vuol dire che noi proveremo a risolvere il problema. Se Facundo per voi è un problema. Questa era una storia che poteva essere risolta in un attimo. Insomma è mancata la mediazione, noi diciamo da giorni, anzi da settimane, almeno io personalmente, la mediazione da parte del club, a mio avviso più da parte del direttore sportivo, che funge sempre da cuscinetto tra squadra e appunto dirigenti e società, per cercare di ricucire lo strappo tra il giocatore e l'allenatore. C'è stato un segnale da parte del club in questo senso oppure non vi siete sentiti? Non mi sono sentito, ma la cosa più giusta, credo che... Quindi scusami, non è in programma un incontro ai prossimi giorni? Io mi sento ogni giorno con Daniele Delicarvi, abbiamo delle idee che sono poi abbastanza simili, però nella pratica poi forse non vengono sviluppate. No, perché tra otto giorni termina il mercato, voglio dire, insomma il tempo stringe, quindi bisognerà capire. Ieri ho sentito l'intervista del Presidente che giustamente diceva per me non c'è stato mai un caso, un'imprecisione che purtroppo lo devo dire perché o a lui gli sono state dette altre cose, dice ragazzo più volte ha chiesto di andare via, mi dicano quando ha detto una volta che vuole andare via. Perfetto. Non più volte, una volta. Intanto ci puoi confermare che c'è stato l'interesse concreto della Feralpi Salò? Sì, questo lo possiamo dire, che c'è stata anche un'offerta ufficiale poi rispedita al mittente o no? Questo fa dovevo dire la pescata, nel senso che io ti posso dire tranquillamente che non c'è stata solo la Feralpi Salò. Ce ne sono stati diversi. C'è stata un'altra diritta. Su questo non ho nulla da dire perché un club che ha i diritti sportivi di un calciatore può chiedere quello che vuole. A me quello che mi sembra strano è come sia stato gestito il tutto. Confido sempre che tra persone intelligenti si possa sempre trovare il modo di trovare la sintesi giusta per poter ricomporre tutto. Basta volerlo. E senza ombra di smentita posso dire che il pescano addirittura si è ridotto l'ingaggio per venire al pescato e giocare nel pescato.